ciao a tutti ragazzi come andiamo bentornati sul canale times gadget oggi in questa recensione sotto la nostra lente abbiamo un nuovo smartwatch oggi abbiamo l'ultimissimo recentissimo smartwatch presentato solamente un paio di giorni fa della mob voi e parliamo del tqh gth uno smartwatch uno sportwatch è secondo me una vieti mezzo però è uno smartwatch se così vogliamo dire molto dedicato alla salute perché abbiamo diversi monitoraggi diversi sensori interessanti proprio che riguardano la salute e uno di essi è davvero molto raro secondo me è l'unico ad oggi questo smartwatch che ha questo tipo di sensore all'interno comunque si tratta di uno smartwatch interessante che ha anche una fascia di prezzo abbastanza bassa sotto le 100 euro poi vi dirò il prezzo nel dettaglio quando arriviamo alla fine di questo video ed è uno smartwatch che vi arriverà a casa con questo tipo di confezione dove all'interno senza questo qui ad aprirvela forse a voi vi arriverà anche la confezione non per la stampa non so se ci sia qualche disegno sopra su quella definitiva comunque all'interno oltre che lo smartwatch troverete anche il cavo di ricaria cavo di ricaria come composto a parte che ok è un po lungo ma è una via di mezzo non è molto corto ma secondo me lo potremmo fare un pochino più lungo per poterlo attaccare sul comodino e la presa metterla per terra comunque da questa parte abbiamo la usb a come porta dall'altra invece abbiamo una porta proprietaria con due pin e due magneti e li dovete mettere in questa maniera ha solo un verso per attaccarlo non lo potete mettere come volete e vedete diciamo che il magnete si va un pochino a spostare non è molto forte quindi dovete fare attenzione nella parte qui inferiore cosa abbiamo perché abbiamo una cassa prima di tutto che è molto compatta leggera pesa solamente 50 grammi lui è anche resistente impermeabile a 5 atmosfere come dimensioni siamo se volete avere un termine di paragone di confronto sulle dimensioni quasi di un apple watch da 44 millimetri a parte la forma che è simile ma è un pochino più piccolo a livello di dimensioni in pianta e anche forse un pochino più sottile se togliamo all'apple watch questa parte qui sotto che va a sporgere per i sensori comunque le dimensioni sono quelle ma è molto leggero quindi si porta estremamente bene al polso non dà fastidio anche quando fate sport lo mettete più in alto non vi dà mai fastidio abbiamo l'unico pulsante fisico che è questo qui che è una rotellina che gira ma non è possibile però gestire poi l'interfaccia il cinturino è fatto davvero molto bene anche questo perché mi piace è un tipo di silicone di più bello perché non è del tutto gommato leggermente liscio piacevole anche al tatto ben rifinito abbiamo sgancio rapido chiaramente da 20 millimetri su entrambi le parti quindi potete anche alternarlo a qualsiasi altro cinturino che voi volete prendere volete acquistare da store di terze parti e soprattutto poi rimane un buon cinturino anche per dormire per farsi la doccia non si va a rovinare non si va a lucidare l'unica causa purtroppo non abbiamo il dentino qui dentro al passante quindi dovete stare attenti perché delle volte si va a spostare e avete delle volte l'altra parte che è un po' una linguetta che svolazza però nulla di che soprattutto poi mi è piaciuto perché portandolo a polso la notte questo cinturino non essendo tanto gommato non va nemmeno a fare attritos con le lenzuola anche quando mettete le mani in tasca delle volte o le poggiate su un tavolo su una superficie non è quel tipo di tpu che va ad accumulare ed è un magnete per la polvere o per i pelucchi è una cosa che mi è piaciuto tanto perché ho notato questo tipo di problema su tanti altri cinturini su tanti altri smartwatch la casa comunque come vi stavo dicendo una casa tutta in alluminio molto bella sottile come dicevo leggera e qui sotto abbiamo tutta una serie di sensori fra i sensori fra quelli più noti abbiamo il battito cardiaco anche i sensori per l'elevamento del del sonno e comunque l'ossigenazione del sangue e poi abbiamo anche questo sensore che è quello che vi dicevo che è uno di pochi se non l'unico orologio che ce l'ha perché questo qui misura la temperatura del corpo una cosa decisamente molto molto interessante che come vi stavo dicendo se non vado a rato o se c'è qualche orologio che mi sta sfuggiando fino ad ora oggi lui è l'unico che io so che ha questo tipo di misurazione e devo dire ragazzi adesso vi farò vedere come funziona la misurazione è anche molto precisa io l'ho misurato e l'ho comparato anche con termometri più professionali è molto preciso per questa misurazione ma in generale sono molto precisi poi tutti i vari monitoraggi che lui fa quello del sonno quello del battito cardiaco dell'ossigenazione del sangue anche dei respiri per ogni minuto è decisamente molto preciso mi è piaciuto sotto questo aspetto come funziona allora il display è un'unità ips che si vede bene sotto luce del sole però purtroppo non avendo la luminosità automatica la dovete andare a cambiare voi ogni volta da qui qui abbiamo la tendina delle notifiche con i vari collegamenti rapidi e non disturbare che vi consiglio di metterlo la notte poi abbiamo per far squirare il telefono sentite non lo potete stoppare dal telefono suoneria lui finirà breve ok una volta finito penso e spero che siate riusciti a ritrovare il telefono altrimenti lo rifate squillare qui poi abbiamo il risparmio energetico la torcia che si va a illuminare e possiamo tornare indietro cliccando sul pulsantino le impostazioni le impostazioni sono pochissime infatti sono solamente queste possiamo andare a settare la luminosità dello schermo vedete come la rotellina gira ma non lo possiamo utilizzare poi possiamo ravviare lo smartwatch arrestare oppure le informazioni visto che ci siamo la possiamo anche controllare da qui con uno swipe verso sinistra torniamo indietro la luminosità la possiamo controllare anche da questa parte e dato che lui non ha la luminosità automatica ci tocca solamente sempre andarla a gestire manualmente diciamo che con una certa luminosità fra due e tre ci si vede bene anzi con tre si vede più che bene sotto luce del sole però purtroppo quando poi torniamo a casa se per esempio lo portiamo con noi a dormire al polso la notte lo dovete abbassare altrimenti ogni volta che girate il polso ogni volta che per caso si accende diventa un po un faro nella notte poi dipende anche da che watch face utilizzate se è molto colorata o se una come queste molte volte non è che vi da tanto fastidio le altre poi un gesture come funzionano un po come funziona un po tutta l'interfaccia con una gesture uno swipe dal basso verso l'alto entriamo nel pannello e nella gestione delle notifiche dove qui all'interno come stavo dicendo è una via di mezzo perché arrivano notifiche le potete vedere in questa maniera diciamo potete vedere da dove arriva la notifica da che tipo di applicazione perché lui vi notifica qualsiasi notifica e vi arriva qualsiasi messaggio però oltre a questa qui male che va potete cliccare ma non potete poi vedere più niente quindi non vi permette per esempio come su whatsapp di andare a vedere un messaggio completo o anche per esempio questa qui andiamo a cliccare da facebook non ci fa continuare a vedere il messaggio quindi è solamente una piccola porzione mi sarei aspettato qualcosa in più spero che arrivi qualche aggiornamento almeno per farci vedere non solo da chi arriva il messaggio ma anche un due tre righe del messaggio cosa che mi sarebbe molto molto utile e poi comunque sono queste qui non abbiamo nessun tipo altro di interazione possiamo solamente andare a cancellare in questa maniera e si andrà a cancellare chiaramente la notifica anche dal telefono facendo così oppure cliccando qui possiamo tornare indietro anzi se utilizzate qui sotto la tendina per tornare indietro basta che fate ritornare con uno swipe verso il basso facendo invece uno swipe verso sinistra verso destra accediamo i vari widget widget o altre home non possono essere purtroppo interattivi quindi se noi andiamo a cliccare non entriamo da nessuna parte ma sono solamente consultabili quindi sono visionabili fare il primis quello lì per lo sport con le calorie bruciate con i passi fatti con i chilometri poi a continuare questo qui è quello del sonno ecco qui il sonno possiamo avere altri parametri qui da poter vedere il sonno leggero e il sonno profondo non vi segnare altri perché gli altri non li ha registrati io non so perché questo qui è stato il sonno che mi ha registrato ieri sera ieri sera per esempio è stato poco preciso perché non sono state nove ore e mezza di sono io mi sono messo a letto ad una certa ora mi sembra verso le undici e mezza o mezzanotte ma non sono andato subito a dormire mi sono messo a leggere a vedere un video e lui penso che abbia registrato e monitorato come se già stessi dormendo perché forse mi ha visto abbastanza fermo ecco in alcuni casi può avere questo piccolo problemino e questa piccola imprecisione nel monitorare e nel registrare il sonno però poi nel resto per le altre volte che ha monitorato il sonno è stato sempre abbastanza preciso da questa parte poi invece abbiamo i vari monitoraggi dello sport corsa all'aperto ciclismo salto con la corda nuoto camminata avvocatori altri sport fra cui per esempio sport diciamo ginnastica o altri sport generali e poi abbiamo alpinismo cosa ci monitora per esempio quando andiamo a fare la corsa all'aperto del ciclismo ve lo faccio vedere noi lo facciamo partire vi faccio anche vedere poi dall'applicazione come si vede perché ho registrato una corsa che mi sono fatto in bicicletta vedete lui vi fa solamente vedere il battito cardiaco e le calorie bruciate mentre facciamo stop purtroppo lo dovete fermare voi non ha un intelligenza tale da poter capire quando vi siete fermati e quindi andare a stoppare automaticamente l'allenamento a me mi è capitato proprio ieri con la pedalata mi sono scordato di stopparla e lui ha continuato a registrare fino a sera infatti mi ha registrato quattro ore di bicicletta invece ne avevo fatte a un paio due ore e mezza quindi vi dovete sempre ricordare di andare a stoppare vi faccio vedere però per esempio corsa all'aperto cosa che è leggermente differente mi sembra che dà anche un parametro in più vedete qui vi dà i chilometri quindi il chilometri fatti il percorso i passi e il battito cardiaco lui non è dotato di gps vi dà anche le calorie cosa mi scordavo lui come vi dicevo non è dotato di gps quindi si aggancia a quella del telefono e poi vi farò vedere come funziona l'applicazione tornando indietro qui continuiamo a tornare ai widget e quindi a continuare abbiamo una serie di riassunti per la frequenza respiratoria per la temperatura della pelle che adesso vi faccio vedere anche questa come funziona e per l'ossigenazione del sangue poi non abbiamo altri parametri l'altro widget quello del battito cardiaco molto bello mi piace lui monitora il battito cardiaco h24 e per quanto riguarda il battito cardiaco quelli spot quindi quando adesso lo misurate è molto preciso abbastanza preciso l'ho misurato anche insieme a altri smart watch sport watch e anche a misuratori battito cardiaco un po più professionali e lui abbastanza preciso però se lo portate con voi a fare sport io monitorante ho monitorato anche con lui una camminata una corsa ci mette un pochino rispetto a altri sport watch ad arrivare al livello reale di battito cardiaco inizialmente non vi dà quel grafico non essendo uno sport watch di picchi di alti o più bassi di battito lui fa una relazione un po generica un po generale e arriva a un battito cardiaco più preciso dove sono arrivati anche altri sport watch più professionali dopo un tot non ci arriva subito comunque mi è piaciuto perché comunque abbiamo un resoconto poi generale poi da questa parte abbiamo il medio e poi come al solito torniamo per finire alla home per andare a cliccare se andiamo a cliccare sul tasto cosa abbiamo entriamo nel menu applicazioni dove all'inizio abbiamo messaggi messaggi non è proprio interpretato come messaggi o tradotto da poter pensare che siano proprio i messaggi ma sono tutte le notifiche infatti secondo me sarebbe stato più giusto secondo me scriverci direttamente notifiche dove possiamo andare a vedere e sono quelle che abbiamo che richiamiamo con un swipe dal basso verso l'alto sulla home page e poi abbiamo i tic esercizio tic health vi faccio vedere come abbiamo qui il battito cardiaco il tic brit per la frequenza respiratoria quindi ci dice quanti respiri al minuto e poi abbiamo il tic ossigeno per l'ossigenazione del sangue molto importante ma soprattutto anche molto preciso mi è piaciuto l'ho monitorato e l'ho comparato anche con quelli apparati diciamo da farmacia che si emettono il dito devo dire mi è piaciuto sotto questo aspetto non me l'aspettavo tic temperatura questa qui eccola qua la faccio subito vedere voi ve la mettete al polso e lui inizia a monitorare la temperatura ci sono rimasto in particolar modo su questo tipo di misurazione di monitoraggio perché come ho detto già più volte poco fa è l'unico smartwatch che ha questo tipo di misuratore e l'hanno fatto davvero molto bene io l'ho comparato con altri misuratori di pressione e lui è estremamente preciso ci sono rimaste una cosa che mi è piaciuto tanto soprattutto come vi dicevo prima in questo periodo di covid dove è sempre molto molto buono è sempre saggio ottenere la nostra temperatura sotto controllo abbiamo anche il tic zen quelli che troviamo anche sui lati tic watch e tic respiro tornando indietro poi abbiamo il tic strip lo faccio vedere poi anche dall'applicazione gli altri parametri abbiamo il timer il cronometro il meteo il controllo della musica che è molto semplice play pause avanti indietro e poi le impostazioni che ve l'ho fatta vedere sono quelle generali quindi uno smartwatch come avete visto un po all'essenziali va ridotto non vi dico all'osso però comunque non abbiamo tantissime specifiche o tantissime impostazioni tantissime opzioni però quelle che ci sono vi posso dire che funzionano anche abbastanza bene detto questo però adesso andiamo a vedere come funziona l'applicazione chiaramente l'applicazione è quella classica di mob voi che molti di voi sicuramente avranno già visto già scaricato e già visto anche per altri smartwatch non è che cambi tanto una volta che si fa si procede all'associazione e alla connessione vi apparirà questa maschera qui sotto abbiamo i classici quattro pulsanti dell'applicazione che non sto qui neanche poi a fare un tour per farvele vedere però da qui sopra possiamo andare a cliccare e abbiamo l'associazione con il nuovo orologio il reset del dispositivo l'aggiornamento firmware oppure annullare l'associazione da qui possiamo vedere la batteria purtroppo per caso ci fa vedere solamente l'icona ma non mi dà la percentuale una cosa che ho fatto caso e spero che arrivi in qualche aggiornamento e poi prima di entrare anzi entriamo subito in movimento e qui ci da tutti i parametri che lui ha registrato questo abbiamo tutti i giorni precedenti che gli abbiamo portato al polso dove ha registrato tutti poi i vari parametri e abbiamo come state vedendo un riassunto dei chilometri fatti dei passi delle calorie oggi mi sono mosso praticamente niente sono stato purtroppo tutto il giorno a casa la frequenza cardiaca monitorata h24 con una frequenza a cui ci dice media del 80 battiti il massimo 124 il minimo 56 l'ossigenazione del sangue la minima e la massima se facciamo più abbiamo anche questo grafico che ci monitora e ci fa vedere la media la massima e anche tutti i monitoraggi a seconda poi dell'ora abbiamo poi la temperatura del corpo la minima massima anche qui il monitoraggio del sonno vi faccio vedere cosa ci monitora durante il sonno anche durante il sonno mi è piaciuto seppure vi ho detto ho riscontrato questo piccolo errorino di calcolo ieri sera che lui mi ha monitorato e ha capito che era andato a dormire un 20-30 minuti prima però comunque per il resto monitora abbastanza bene cosa che mi piace che non fanno tanti altri smartwatch o sportwatch che monitorano il sonno e che lui durante il sonno ci va a monitorare anche la frequenza cardiaca e l'ossigenazione del sangue molto molto buono questa cosa è una cosa che mi è piaciuta estremamente tanto poi qui sotto abbiamo sport oggi chiaramente non mi sono mosso ma se fate sport per esempio lui alcune volte mi rileva mi ha rilevato lo sport automatico altre volte no dipende dai casi non ho capito da che cosa determina però comunque alcune volte non rileva quindi se dovete andare a correre dovete a camminare vi consiglio di attivarlo subito in maniera manuale anche se vi volete fare una passeggiata e volete monitorare poi tutti gli altri parametri attivatela subito manualmente così non rischiate di perdere quel tipo di monitoraggio e quel tipo di attività qui vi fa vedere tutta la schermata purtroppo ieri è stato quando non ha stoppato lui automaticamente mi ha calcolato quattro ore di allenamento ne avevo fatte solamente un paio e cosa strana non mi ha calcolato i chilometri non ho capito le altre volte non ha sempre calcolati ieri penso che è successo qualcosa che ho fatto dono forse anche io perché poi lui nel resto dei giorni è andato sempre bene comunque qui sotto avete poi la frequenza cardiaca il tic esercizio i grassi bruciati e un minuto vi dice di aerobico e qui dice le calorie spese e che non mi sono fatto un giro in bicicletta tanto per monitorare e per vedere per testare l'orologio come andava oltre a questo poi tornando indietro nell'applicazione cosa andiamo a trovare abbiamo qui salute h24 per dormire vi dice ok grande è andato bene la temperatura è normale e l'ossigenazione del sangue è normale è un rassunto diciamo generale che perlomeno se volete dare solamente un'occhiata veloce sapete che tutto nella media è tutto nella norma qui invece poi abbiamo la modalità intelligente dove abbiamo una serie di opzioni da poter attivare o disattivare a seconda di quello che volete che l'orologio poi facciata solo per esempio per esempio l'allegamento automatico della frequenza cardiaca dell'ossigenazione del sangue della temperatura corporea della frequenza di respiratoria della modalità non disturbare attiva non disattiva oppure se quando si alziamo il polso quindi con la dotazione del polso lui si va a illuminare subito e poi abbiamo l'ottile intelligente che funziona anche abbastanza bene adesso poi l'ho tolta in questi giorni qui abbiamo i quadranti cosa che vi dicevo prima oltre che dallo smartwatch vi metto là il tema nero perché può darsi che avete qualche problemino poi ci può essere qualche problemino nell'andarlo a vedere ah ok come ho detto lui non prende il tema nero allora vi abbasso un po la luminosità che forse è meglio anzi la rialziamo un altro po così non avete lo sfarfallio purtroppo e come dicevo qui abbiamo tutta una serie di quadranti che possiamo andare a installare e scaricare non sono quadranti a pagamento sono tutti gratuiti non sono quadranti sviluppati e progettati da sviluppatori terze parti sono stati tutti fatti da mob voi per questo t-quatch infatti hanno tutti la forma rettangolare e non tonda come tutti gli altri smartwatch dell'azienda comunque ce ne sono diversi una volta che volete applicarne uno cliccate fate salva e applica per salvare applicarlo soprattutto per mandare lo smartwatch questo è una cosa un po da risolvere anche con un piccolo aggiornamento perché ci mette un po tanto ci mette quasi 40 50 secondi per passare una semplice watch face e spero in qualche aggiornamento in modo da velocizzare questa cosa comunque ci sono tante watch face e spero che ne arrivano altre anche per andare a monitorare poi tutti gli altri aspetti per averli sempre in primo piano cosa che mi farebbe molto utile ma comunque spero in qualche aggiornamento e spero anche che la smart che la mob voi lo porti avanti questo tipo sistema su tutto questo orologio perché è abbastanza interessante da portare al polso tutti i giorni poi qui abbiamo altre watch face personalizzate dove però ci fa vedere solamente l'ora e i passi qui sotto possiamo sia andare a cambiare il colore dell'ora ma non possiamo andare a cambiare il colore dello sfondo non ho capito il motivo oppure possiamo fare vedete qui si va a ripristinare oppure da qui possiamo andare a settare una foto o una foto che possiamo scattare adesso oppure una foto che possiamo scegliere nell'album facciamo nulla torniamo indietro e poi abbiamo il pro memoria intelligente per esempio l'avviso per le chiamate per i messaggi l'avviso con vibrazione l'avviso per le varie applicazioni potete andare a settare e vedere voi quale applicazioni notificare che vi va a notificare l'orologio o quale non volete farvi notificare oppure l'avviso per la sessione di seduta prolungata quando siete molto seduti volete farvi arrivare qualche notifica per sponarvi un po per alzarvi lo potete fare da qui poi a seguire altre funzionalità abbiamo il cerca l'orologio quindi la funzione l'ho fatto vedere prima dall'orologio ma la potete fare dallo smartphone quindi per far squillare l'orologio abbiamo poi la durata dello schermo luminoso 10 secondi 5 secondi o 15 secondi il sistema 24 ore oppure quell'altro 12 ore il sistema il la lingua di sistema mi stava in un sistema in un'altra maniera comunque avete una serie di lingue da poter scegliere altre penso che ne arriveranno poi a breve e poi l'unità di temperatura quindi un'applicazione abbastanza completa spero anche in qualche inserimento integrazione di qualche altra novità anche di qualche altra opzione all'interno di questa di questa applicazione specialmente per la batteria qui sopra o per andare ad avere anche qualche parametro in più durante il monitoraggio dello sport però comunque non è fatta affatto male e poi soprattutto rispetto ad altri mob voi altri t-quatch che ho provato precedentemente l'applicazione è stata tradotta anche molto meglio comunque per arrivare un po le conclusioni di questo smartwatch allora a me è piaciuto però è chiaro che sicuramente capisco che sia per un pubblico di nicchia non per tutti perché parliamo come ho detto più volte tra una via di mezzo tra uno sportwatch e uno smartwatch non lo consiglio a tutti loro che vogliono uno smartwatch sotto tutti gli effetti per gestire le notifiche le chiamate vi voce o quant'altro e non lo consiglio neanche a coloro che invece vogliono uno sportwatch per fare sport tutti i giorni per portarlo a correre a nuotare o in bicicletta perché lui non le fa molto bene alcune cose e come avete visto non abbiamo tutti i parametri però consiglio tutte quelle persone che vogliono uno smartwatch di questo genere con una serie di notifiche ma soprattutto che hanno un occhio di riguardo per la salute quindi che gli interessa portare al polso tutti i giorni un orologio per andare a monitorare tutti quei parametri fra cui in primis anche la temperatura del corpo per quanto riguarda la batteria perché vi sto dicendo più volte tutti i giorni lo potete portare al polso la batteria anche qui è una ottima perché io l'ho portato al polso per sei giorni facendo uno o due volte anzi due volte attività sportiva e come avete capito mi ha durato sei giorni portandolo al polso anche la notte se non fate attività sportiva quindi non utilizzate per monitorare qualche sport allora vi riesce anche ad arrivare anche a sette giorni tranquillamente quindi buono anche sotto questo aspetto il prezzo di questo T-Coach GTH qual è? è di 79 euro vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione ad amazon poi fatemi sapere che cosa ne pensate perché comunque non rientra fra i migliori smartwatch sport sul mercato però avete visto come è interessante sotto alcuni aspetti specialmente su questa fascia di prezzo sotto le 80 euro comunque se poi l'azienda mi fa avere qualche codice sconto da potervi girare ragazzi io come al solito ve lo rigiro o su instagram oppure sul gruppo di telegram e quindi approfitto per ricordarvi di iscrivervi anche a quei due gruppi anche agli altri canali social vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione e poi come al solito ragazzi se vi è piaciuta questa recensione e avete apprezzato questi tipi di prodotti e di gadget lasciate un bel like mi fa sempre molto piacere aiuta anche a far crescere la community e aiuta anche a me per il lavoro che faccio perlomeno so che vi è piaciuto questo tipo di video e vi sono piaciuti questi tipi di recensioni così approfondite detto questo ragazzi noi ci vediamo sicuramente alla prossima video recensione data misgarge per Giorgio buona giornata a tutti e grazie ancora ciao ciao Grazie per la visione